Onorevole Borghezio, oggi parte da Milano il tour sta Euro, promosso dal segretario federale Matteo Salvini. In Europa però ci sono già delle posizioni scettiche nei confronti della moneta unica. Sì, certo, c'è tutto un florilegio in Europa di movimenti e partiti non solo autonomisti e dipendentisti, ma anche di vario genere, che hanno posizioni sostanzialmente identiche alle nostre, contro questo Euro e questa prigione di Eurolandia, i cui diktat stanno soffocando la nostra economia reale, basata sulle piccole e medie imprese. Un Euro che è mortifero per la nostra economia, quindi il nostro futuro, e che ha causato fino adesso solo disoccupazione e crisi molto pesante, soprattutto per noi al nord. Noi proseguiremo la battaglia, ci troveremo fianco a fianco con loro in un grande rassemblement al Parlamento europeo dopo le elezioni del 25 maggio.